Musica Approfondire i temi del trasporto pubblico locale, in particolare come si è fatto oggi con i vertici e le ferrovie della Calabria, è un aspetto strategico per il nostro territorio. È inutile ricordare quanto importante sia la ferrovia, non solo per assicurare un servizio di base, un servizio essenziale per tutti i cittadini, che è quello del trasporto pubblico locale, ma anche per lo sviluppo di un territorio, per fare da volano al territorio. Su Venia Mannelli, il territorio di Reventino, ha sempre rivestito una centralità da questo punto di vista, nel senso che anche grazie alle ferrovie della Calabria è sempre stato un territorio baricentrico rispetto alle aree contigue e anche ai due grandi capoluoghi di Catanzaro e Cosenza. Affermare l'importanza del servizio pubblico locale delle ferrovie in questo caso significa anche ridare strategicità, ridare attrattività a questo territorio, anche perché non si tratta solo di assicurare lo spostamento, la mobilità dei cittadini verso altri territori, ma si tratta anche di attrarre i cittadini in altri territori verso il nostro territorio. E questo credo che sia l'altra faccia importantissima della medaglia sulla quale bisogna lavorare. Da questo punto di vista anche la strategia nazionale per le aree interne, che ha tra i tre assi fondamentali, quello della mobilità, può rappresentare un'occasione importante. Da questo punto di vista si sta costruendo un percorso che possa portare al sistema infrastrutturale del nostro territorio come uno dei volani importanti per il nostro territorio.